Si parla ancora di seo in Puglia, l'infezione che ha destato non poche preoccupazioni e che ha provocato solo alcuni mesi fa la morte e il ricovero in gravi condizioni di alcuni bambini. Questa volta si tratta di una bimba di due anni di corato che il 24 agosto è deceduta presso l'ospedale Giovanni XXIII di Bari a causa della sindrome emolitico-uremica. Dopo quanto accaduto sono iniziati i doverosi e necessari controlli per individuare l'origine dell'infezione. Sono stati infatti prelevati numerosi campioni nei giorni scorsi presso aziende che producono lattiero caseari, carne e verdure, ma allo stato attuale in nessuno di questi è stato trovato il batterio che ha determinato la scomparsa della bambina. Una fra le ipotesi avanzate dagli ispettori sanitari sarebbe quella dell'acqua contaminata proveniente da un pozzo artesiano. Per verificare i sospetti sono stati prelevati alcuni campioni e successivamente inviati in laboratorio e nei prossimi giorni i risultati permetteranno di vederci chiaro su quanto accaduto. Ieri pomeriggio a tal proposito la Regione Puglia ha riunito un tavolo di crisi sulla sicurezza alimentare presieduto dal direttore del Dipartimento Politiche della Salute e Benessere Sociale Giancarlo Ruscitti, durante il quale erano presenti i rappresentanti della ASL Bari, del Policlinico, dell'ARPA Puglia, dell'Istituto Zoprofilattico e del loro incontro emerso che allo stato attuale non vi è una situazione di allarme di contaminazione o rischio per la salute di altri bambini.